buongiorno cari amici benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa nuova lezione di matematica finanziaria oggi parleremo di come si calcola il tasso di interesse all'interno del regime interesse semplice vediamo insieme di risolvere questo esercizio calcola il tasso anno a cui dobbiamo investire un capitale di 20.400 euro per ottenere un interesse semplice di 1000 euro in due anni e tre mesi per prima cosa andiamo a rappresentare questa situazione sulla linea temporale quindi all'epoca zero ovvero oggi investiamo un capitale pari a 20.400 dopo un anno e tre mesi al tempo futuro quindi otteniamo un interesse complessivo pari a 1000 euro vedete la freccia che è spostata verso destra per indicare il processo di capitalizzazione dobbiamo calcolare il tasso di interesse e vediamo come farlo ricordiamo che nel regime interesse semplice l'interesse si calcola come il prodotto tra il capitale il tasso e il tempo quindi ribaltando questa formula andiamo a calcolare il tasso di interesse dividendo per c t entrambi i membri e quindi il tasso di interesse andiamo a ricavarlo dividendo l'interesse complessivamente creato per il prodotto tra il capitale e il tempo ora ovviamente il tempo dovrà essere espresso in anni in quanto noi vogliamo il tasso annuo di questo progetto di questo investimento quindi dobbiamo sempre armonizzare il tempo al tasso di interesse quindi dobbiamo scrivere quindi il tempo in anni il tempo in anni cioè un anno e tre mesi sarà appunto uno più i tre mesi che saranno tre dodicesimi di anno se preferite tre dodicesimi le potete semplificare con un quarto quindi diventa uno più un quarto se preferite potete fare la somma tra uno e un quarto che fa cinque quarti ovvero essendo quattro quarti più un quarto oppure potete direttamente calcolare il numero che sarebbe 1,25 a questo punto andiamo a calcolarci il tasso di interesse quindi come il rapporto tra l'interesse ovvero i 1000 euro fratto il prodotto tra il capitale e il tempo quindi al denominatore andiamo a mettere 20.400 per il tempo ovvero per 1,25 come tasso andremo a trovare 0,0392 che percentualmente parlando sarebbe il 3,92% ovviamente su base annua ricordiamo che dovete imparare a scrivere bene anche questi calcoli con la calcolatrice quindi se la calcolatrice ve lo permette di creare la frazione quindi schiacciate il tastino della frazione al numeratore mettete 1000 al denominatore quindi il capitale ovvero 20.400 per se volete esprimere anziché il tempo come 1,25 lo volete scrivere come 1 più 3 dodicesimi cioè un anno e tre mesi andate quindi al denominatore a fare per aprite la parentesi quindi 1 più 3 dodicesimi chiusa parentesi ottenendo quindi se la calcolatrice di questo stampo 2,51 ora per trasformare questo 2,51 nel risultato che volete leggere come tasso di interesse andate a schiacciare il tastino sd che vi permetterà quindi di trasformare la frazione nel numero quindi otterrete 0,039215 eccetera se volete scriverlo nel modo classico potete fare quindi 1000 diviso in sostituzione della linea di frazione aperta tonda 20.400 per aperta la tonda 1 più 3 dodicesimi oppure scrivete 1,25 chiusa tonda chiusa tonda attenzione chiuderla doppia tonda e come risultato otterrete appunto il 3,92 se il video ti è piaciuto lascia un bel like iscriviti al canale ma soprattutto se vuoi scoprire di più circa il regime interesse semplice tutte le sue proprietà ho preparato un video corso di matematica finanziaria che si chiama concetti base e regimi in cui troverete tutti i concetti base della matematica finanziaria e tutti i regimi anche tra cui l'interesse semplice vi lascerò in descrizione il link con tutte le caratteristiche del video corso e sotto un altro link di accesso al sito attraverso cui potrete accedere al video corso mi raccomando i prezzi sono assurdi quindi troverete questo video corso e quindi svariate ore con svariati esercizi presi da tante università ad un prezzo veramente assurdo attualmente siamo sui 9 euro e 99 centesimi veramente una miseria vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo sempre qui sempre col vostro andrà il matematico sempre alla prossima lezione dei matematici